Matteo Renzi, ospite di Giuseppe Brindisi a zona bianca, su rete 4, lancia delle bordate contro il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta ha scelto di non parlare con noi perché ha detto Renzi ci fa perdere i voti. Temo che il 26 settembre scoprirà che gli facciamo perdere i collegi. Ma soprattutto, il vero problema è che questo PD doveva combattere la destra e come prima cosa detto, aumentiamo le tasse. Ora, ma se uno vuole vincere le elezioni, ironizza Renzi, la prima cosa che dice in TV è ragazzi, aumentiamo le tasse? Insomma, osserva il leader d'Italia viva, secondo me Letta il migliore amico di Giorgia Meloni, sta facendo campagna elettorale per la Meloni, io invece faccio campagna per Draghi e combatto le follie di Letta. E non finisce qui, Letta tutti i giorni ci attacca, un po' mi spiace. Chi vota PD vota Letta e Di Maio, è diventato il suo sponsor. Oggi ha detto che è per il reddito di cittadinanza e non per il Jobs Act. Segnalo che quando il PD era partito democratico era per il Jobs Act e contro il reddito di cittadinanza. Da quando c'è Letta, il PD ha cambiato volto, a questo punto può cambiare nome e chiamarsi Movimento 5 Stelle. Grazie.